ciao amici bentornati sul canale o benvenuti se siete nuovi la storia che vi racconterò oggi parla del caso di Jackie Hernandez storia che forse è poco conosciuta ma che ho trovato molto interessante la donna fu protagonista di infestazioni insoliti fenomeni entità etereo fantasmi che per diversi anni l'hanno perseguitata e la cui vita è diventata impossibile impraticabile e diversa dalle altre infatti la vicenda viene definita insolita e diversa da tante altre proprio perché pare che questi strani episodi intrisi di quel che potremmo definire paranormale sembravano in un qualche modo connessi alla condizione psicofisica della vittima infatti le strane entità diventavano più forti aggressive proprio quando la donna attraversava un brutto periodo e la tormentavano maggiormente quando era più vulnerabile tuttavia questo non è l'unico caso infatti in questi mesi molto spesso trattato casi dove il soggetto colpito da tali manifestazioni era di base un soggetto vulnerabile o comunque energeticamente debole ed è proprio questo stato emotivo che favorirebbe energia a tali entità riuscendo così a manifestarsi sempre di più dandogli modo di trovare strada facile se così si può dire per prendere gradualmente il totale controllo della mente spesso anche del corpo della persona in questione ovvero la famosa possessione demoniaca ma questa storia fortunatamente non parla di possessione ma di manifestazione che si avvicina più o meno ad un poltergeist ma con qualche diversità ad ogni modo vi racconterò l'esperienza di questa donna così che anche voi possiate farvi un'idea nel 1988 Jackie Hernandez era poco più che ventenne ma era già sposata e si prendeva cura del suo figlio di due anni James stando alle testimonianze la vita coniugale non andava per il meglio e il marito oltre ad avere problemi sul lavoro spesso beveva e diventava violento in casa un giorno dopo l'ennesima lite Jackie amareggiata ed esausta da tutto quello che succedeva in casa decise di lasciare il marito trasferendosi così in una casa da poco comprata dai genitori a san pedro in california riguardo suo figlio non ho trovato notizie nelle testimonianze non si capisce se James sia andato con la madre o sia rimasto con il padre ma data l'età del piccolo e le vicende successe in casa credo e spero che il piccolo sia andato con la madre era il novembre del 1988 quando Jackie Hernandez scoprì di essere di nuovo incinta ma rimase comunque ferma sulla decisione di stare lontana dal marito il suo matrimonio fino a quel momento era sperava che allontanandosi dal marito violento che in quegli anni gli aveva procurato non poco dolore le cose piano piano sarebbero cambiate in meglio anche se si dimostrava una donna forte quella separazione l'aveva distrutta psicologicamente e i primi tempi fece infatti molta fatica ad ingranare nonostante l'aiuto dei genitori che amorevoli si prodigavano per darle una mano fu proprio allora dall'inizio del 1989 che in quella casa iniziano ad accadere cose strane tutto iniziò una notte fredda di gennaio quando improvvisamente il suo letto collassò letteralmente su se stesso piegando persino le reti la prima cosa che pensò Jackie fu che fosse una rete difettosa o comunque vecchia così il giorno dopo la cambiò e ne preso un'altra dei genitori passarono appena due giorni che la seconda rete cedette ancora il padre la saldò e gliela rimise ma dopo qualche notte nuovamente il letto crollò la famiglia confusa non riusciva a capire il motivo ma dopo diversi tentativi trovarono finalmente la soluzione al problema acquistando una nuova struttura in ferro battuto la cui rete era saldata in modo quasi indistruttibile passarono alcuni giorni e tutto sembrava andare bene iniziò ad arredare casa con tende nuove lampadari Jackie seppur distrutta emotivamente cercava di darsi da fare non mostrando il dolore che dentro la opprimeva ad ogni modo non passò molto che in casa di Jackie le stranezze ricominciarono spesso di sera mentre guardava la tv aveva l'impressione che qualcuno borbottasse in soffitta per poi tacere quando Jackie abbassava il volume per ascoltare il suo gatto iniziò a comportarsi in maniera strana graffiando porte tenendo agguati ad alcuni punti dei muri e rincorrere qualcuno che lei non vedeva soffiando nel vuoto questi avvenimenti tuttavia non lasciarono del tutto indifferente infatti lei stessa dichiarò non avevo mai vissuto sola prima d'ora era la mia prima esperienza tutto mi spaventava forse ero io ero ancora confusa mentalmente stavo male ma dovevo reagire tuttavia passò solo un giorno dopo le ultime stranezze vissute in casa che anche lei iniziò a vedere strane ombre muoversi lungo le pareti e il soffitto ombre che non appartenevano a nessun oggetto in particolare e che scomparivano in pochi istanti successivamente fu il turno dei lampadari che iniziarono ad oscillare senza motivo e le ante degli armadi che si aprivano durante la notte un giorno invitò un'amica finito il pranzo stava lavando i piatti quando entrambe furono testimone di una scena agghiacciante infatti le pareti della cucina inspiegabilmente inizierono a trasudare uno strano liquido rosso molto simile al sangue e il cassetto delle posate si aprì improvvisamente facendo cadere numerosi coltelli le due donne spaventate scapparono di casa e jackie terrorizzata andò ad abitare per un po dai genitori temendo per la sua salute ma soprattutto della figlia che portava in grembo decise così di terminare la gravidanza a casa dei suoi nel mese di aprile del 1989 nacque sua figlia samantha e jackie si convinse a tornare a casa sua sperando in un qualche modo che quegli episodi fossero solo frutto della sua immaginazione in realtà al suo arrivo le attività paranormali non fecero altro che peggiorare la donna infatti iniziò a fare sogni vividi in cui vi era un giovane che veniva aggredito e bastonato a morte lungo il molo del porto di san pedro l'ambientazione era degli anni 20 o 30 e ogni notte si aggiungeva a quel sogno qualche particolare macabro che la faceva svegliare di soprassalto una di quelle notti il sogno fu molto più violento del solito e si vide sempre nel corpo di quel ragazzo ma questa volta mentre veniva tenuta sott'acqua da un aggressore che voleva annegarla si svegliò così di soprassalto e andò in bagno a rinfrescarsi per riprendere il controllo proprio in quel momento mentre se ne stava seduta sul bordo della vasca vide davanti alla porta del bagno un vecchio che la fissava severo prima che potesse reagire il vecchio scomparve senza dire una parola scossa da quell'episodio tornò nuovamente a casa dei genitori e chiamò il parapsicologico Barry Tuff affinché indagasse sulla casa lui a sua volta chiamò un gruppo di ricercatori del paranormale e assieme armati di videocamere rilevatoria infrarossi si insediarono nella casa di Hernandez nel mese di agosto la squadra registrò più volte pesanti passi in soffitta ma si trattava di una casa autonoma di solo un piano e la soffitta non era abitabile una notte uno dei fotografi dopo aver sentito nuovamente quel rumore pesante andò in soffitta per scattare qualche foto ma una forza invisibile lo colpì al volto e scaraventò la sua macchina fotografica a terra la squadra tornò per una seconda visita nel mese di settembre e Whitcraft uno dei fotografi salì di nuovo in soffitta con il suo collega Gary Bame mentre i due stavano scattando delle fotografie una corda da bucato improvvisamente si avvolse intorno al collo di Whitcraft e velocemente iniziò a stringere la presa attorcigliandosi attorno ad una delle travi del sottotetto Bame fece molta fatica a liberarlo e solo grazie al suo aiuto Whitcraft non venne strangolato a morte intanto Jackie Hernandez decisa di abbandonare quella casa infestata si riavvicinò un po al marito che la convinse a dare una seconda possibilità alla loro relazione lasciò così San Pedro e tornò a vivere con il marito in una roulotte circa a 300 miglia di distanza le attività paranormali nella sua casa San Pedro immediatamente si fermarono e Tuff non registrò più nulla di anomalo passò un anno circa ed il rapporto con il marito nuovamente iniziò ad incrinarsi a metà del 1990 le cose strane cominciarono ad accadere di nuovo ma stavolta dentro e nei pressi della roulotte una sera il televisore dei vicini di roulotte letteralmente schizzò fuori dal finestrino schiantandosi contro la roulotte di Jackie e per tutta la notte la donna e suo marito sentirono rumori di lamiera che si piegava riniziò anche a sognare quelle scene di aggressione al porto e una notte vide dalla finestra di nuovo quel vecchio che l'aveva sorpresa in bagno a quel punto esausta chiamò nuovamente Tuff e il gruppo di investigatori che a loro volta si appoggiarono ad una medium ovvero barbara lukman ok smy turn up thank you he turned it off now leave these ones on please but not the bathroom what just happened we turned the light up it turned the light up are you wrong yeah open the windows every window is open right just one stop for minute il gruppo riuscì ad ottenere risposte da un'entità richiamata dalla medium che disse di essere lo spirito di un giovane morto nel porto di san pedro a soli 18 anni nel 1930 il suo assassino ha vissuto nella casa di san pedro prima di jackie e lì morì per un infarto dopo aver scavato nei vecchi giornali di san pedro jackie trovò la notizia di un giovane marinaio di nome herman hendrickson il cui corpo venne trovato alla deriva nel porto di san pedro il 25 marzo 1930 per quanto riguarda il fantasma del vecchio risalì a john damon l'uomo che visse nella casa di san pedro dal 1931 al 1940 tuttavia amici da qui non ho più trovato altre notizie riguardo questa storia e pare che di jackie hernandez non si sa più nulla dal 1990 anche se su alcuni social network si dice che assieme al marito siano andati ad abitare nella casa a san pedro ed abbiano fatto celebrare numerose benedizioni che hanno diminuito di molto le attività paranormali nella casa che dire amici seppur breve ho trovato questo caso davvero molto interessante perché come abbiamo visto tocca diversi punti all'inizio infatti sembra quasi trattarsi di un poltergeist ma con il tempo si è trasformato in un qualcosa di ancora più potente che approfittando dell'instabilità emotiva di jackie ha preso sempre più forza arrivando addirittura a materializzarsi mentre dall'altra parte c'era forse l'anima buona e persa di un ragazzo assassinato che non trovava pace ad ogni modo una storia assurda fatemi sapere voi cosa ne pensate lasciate un like se il video vi è piaciuto noi come sempre ci vediamo al prossimo appuntamento sempre qui sul mio canale con tante altre storie misteriose ciao 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 ciao